Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starless Tube, nuovo video incazzoso diciamo, perché di solito le amiche ti consigliano le robe belle da guardare invece Arianna di Office Alkira's Shell Page, link in descrizione, invece pensa che sia divertente consigliarmi la merda da guardare perché dice almeno fai i video incazzosi e fai la monetizzazione e c'ha ragione effettivamente quando parlo di stronzate a voi sembra piacere quindi eccomi qui a parlarvi dell'ennesima cazzata, questa volta però nato dalla mente degli spagnoli barra barcellona, non so come si chiamano oggi vi parlo della mia finestra, il film di Netflix tratto da questo romanzo che io non mi sono neanche azzardata a leggere però in un video di TikTok che ho fatto, sempre link in descrizione, una mia amica mi ha detto che il libro comunque è bello io francamente Fede ti voglio bene, mi rispetto molto il tuo parere ma c'ho un po' di dubbi perché se il film è venuto questo schifo, io non so, però a volte ci sono casi che il libro è meglio e il film invece fa schifo ma vi dirò la verità, non ho nessuna voglia di appurarlo perché sto film mi è bastato e avanzato io voglio ringraziare Gaia DMM dintorni che l'ho guardato insieme a me in videochiamata su Netflix e le chiedo anche scusa per averla costretto a questo calvario di quasi due ore che veramente ci ha fritto almeno nel mio caso i pochi neuroni che avevo come sempre vi ricordo che ci saranno spoiler quindi se non avete ancora visto il film vi invito a rimandare la visione a quando l'avrete visto però se vi è piaciuto io vi dico di stare alla larga da questo video perché io lo smonto e infatti ribalisco il concetto i commenti offensivi e maleducati saranno cancellati e ci sarà il ban perché non so se poi recensirò anche gli altri film che faranno perché Arianna mi ha già detto che sono in programma i film sugli altri due fratelli perché sono tre noi adesso ne parliamo di uno, ce ne saranno altri due, io non lo so se mi azzarderò però ve lo dico chiaramente i commenti maleducati e i rispettosi offensivi cancello e c'è il ban perché mi sono rotto le palle, è un cazzo di film, questi sono video divertenti non rompete l'anima, se sapete questo film vi è piaciuto state alla larga da questo video se invece vi volete semplicemente divertire e farvi quattro risate con un video che alla fine ha come obiettivo proprio quello allora buona visione a tutti questo film è stato un po' venduto come la copia spagnola diciamo così barcellonese perché è ambientata comunque a Barcellona di After e devo dire che comunque non hanno tutti i torti sebbene comunque io almeno in After per testo un po' empatizzavo perché è chiaramente prigioniera di un rapporto tossico però qui questa Raquel se ne va un po' a cercare perché qui siamo veramente ai limiti dello stalking praticamente questa ragazza vive in questa casetta che è circondata dalla proprietà di questa famiglia super overrica che sono gli Hidalgo che praticamente sono gli amministratori delegati dell'Alpha 3 che è una delle aziende più importanti di Barcellona e l'Alpha 3, il 3 sta per i tre eredi che sono Artemis che è il più grande Apollo che è il più piccolino e poi c'è quello di mezzo che è il protagonista di questa fantastica storia che è Ares minchi i genitori vi volevano proprio male per chiamarvi così Dio Santissimo date dei nomi normali ai vostri figli poi per questo che vengono su così comunque ironia a parte ma neanche troppo Raquel ha appunto una leggera ossessione per questo ragazzo praticamente non ci ha mai parlato eppure sa tutto quello che fa e ha il computer strapieno di foto che lei scarica da internet e dai social vari ragazzi questa ragazza è chiaramente da segnalare alle forze dell'ordine però vabbè si può insomma si può anche giustificare ma sì perché comunque è un personaggio pubblico è molto famoso sui social e quindi sì però quando si rasenta nei limiti dell'ossessione diciamo che la cosa non diventa più tanto innocente ragazzi infatti a me è questo anche che ha dato un po' fastidio che cercano di minimizzare quella che alla fine è un'ossessione perché comunque non stiamo parlando di un attore che comunque è difficile incontrare di persona no perché poi questa proprio in modalità stalker finita la scuola lo va proprio a cercare la sua scuola lo va a guardare mentre si allena a calcio che poi lo devo capire perché questi ragazzi si allenano a petto nudo cioè quello non è un allenamento di calcio è un allenamento per fare Magic Mike il reboot spagnolo probabilmente Raquel poi ha un miglior amico che si chiama Yoshi che è carino simpatico con questi capelli questo abbigliamento un po' stravagante che è innamorato perso di lei non ricambiato e poi c'è quest'altra ragazza che si chiama oddio ho già dimenticato il nome che per hobby si bomba una professoressa quindi bravi diamo un bel messaggio a tutte le studentesse se volete prendere bei voti trovatevi professori ma va bene non abbiamo troppi coglioni per questa cosa lei proprio lo segue e lo stalkerà allo stesso tempo però anche lui anche lui che cosa fa per farsi notare le fotte la password del wifi e si collega alla sua connessione ed entra praticamente anche nel suo computer e anche questo Ares è da chiamare io se mi trovo uno davanti alla finestra che ascolta la musica a tutto volume e mi dice senza problemi che si è fottuto la mia password del wifi sta usando la mia connessione per cui io pago la bolletta ogni due mesi quel che l'è scusatemi ma la prima cosa che faccio io gli tiro una bastonata e chiamo i carabinieri perché io almeno una persona sanamente farebbe questo ma siccome lui è l'oggetto del suo desiderio allora tutto quello che si limita a fare è dirgli devo usare più il mio wifi e invece lo userò quanto cazzo mi pare ci vediamo strega hai provocato la vicina sbagliata chi cazzo crede di essere Rick Grimes vai a cagare Raquel comunque lei proprio lo segue lo stalkerà arriva pure a entrare in un cazzo di bosco che lo segue in dentro questo che poi alla fine è un cimitero dove lui non so che non mi ricordo se va a trovare effettivamente qualcuno in pratica lei lo segue dove lui potrebbe chiaramente darla una botta in testa a stuprarla a farla a pezzi e poi seperlirla lì in qualche in qualche l'oculo cioè io veramente queste ragazze non le capisco io prendetemi datemi della della rompicoglioni ma io quando vedo queste cose io ho paura del messaggio che lanciano io come dico sempre per questi film ho paura del messaggio che lanciano perché una ragazza che segue un ragazzo così in perfetta modalità stalker non va bene non è una cosa normale una persona un ragazzo normale avrebbe chiamato la polizia e avrebbe fatto bene stessa cosa anche una ragazza se non mi fotte il wifi chiama i carabinieri e quelle sarebbero reazioni normali poi una volta che si spiegano le cose magari si può anche considerare l'idea di 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 riconoscere di parlare questi si stalkerano invece infatti lei poi dopo lui la sgama dopo che lei casca in una cazzo di pozzanghera e praticamente lui le dice guardate che l'ho già rimosso perché l'ho guardato più di una settimana fa quindi non è che mi ricordo proprio però la maggior parte delle cose orde me le ricordo comunque lui le dice credi che non sappia che tu hai una ossessione per me quando ti ho fottuto la password nel wifi ti ho guardato anche nel tuo computer ho visto cosa c'è dentro perché scrivi di me Raquel perché lei sta scrivendo anche una storia perché lei fa un corso di scrittura e sta scrivendo di lui cioè che cazzo non è un personaggio di cui scrivere una fanfiction porca di quella puttana è una persona comunque vabbè è tipo appunto questa è la situazione comunque appunto lei poi gli dice che è la ragazza più interessante che la mia incontro perché giustamente lei lo stalker come una perfetta Lisbeth Salamander dei poveri e quindi sa che lui frequenta praticamente solo sciacquette solo ragazze frivole superficiali con cui farsi una trambata una volta ogni tanto e poi metterle alla porta e quindi appunto lui poi le dice che cosa vuoi allora voglio che voglio che lei dice proprio così voglio che ti innamori di me per tua figlia bella stalkerarlo non è proprio diciamo il massimo la massima tattica un po' come quello lì di 365 giorni che rapisce sta povera crista e le altre 365 giorni per farlo innamorare di lei di lui scusatemi sono andato già in confusione cioè ma dove è finito il dialogo dove è finito il conoscersi dove è finito l'entrare in sintonia senti no perché qui non c'è neanche questo perché poi ci arriviamo in pratica poi lo dice che vuole baciarla e io qui vi dirò e Gaia ve lo può confermare quando lui gli ha detto voglio baciarti però voglio scegliere io dove io qua stavo già sentendo puzza di copyright per Crying Intention perché quello che è un bel film è un bel film bel teen drama fatto bene con un attore che poi hanno 30 anni però va bene non importa era comunque un bel film almeno a me è piaciuto e piace tutto ogni tanto me lo riguardo pensavo che se voi vi ricordate in una scena Sebastian chiede a Cecil una ricompensa per il fatto che la aiutate quindi gli chiede di baciarla da quali deve scegliere lui però dove baciarla e la bacia nell'entrata del tempio e io pensavo che lui faceva la stessa cosa invece grazie a Dio non succede niente di tutto ciò poi tornano a casa e poi cominciano appunto questi siparietti in cui lui le entra in camera tranquillamente ma stiamo scherzando ma se io mi trovo uno in camera mia ma io gli tiro la prima cosa che trovo e chiamo la fottuta polizia ma stiamo scherzando questo entra si mette a leggere le cose che sto scrivendo e poi tu ti fai anche fare la seduzione e poi proprio lui la fa sedere sembra che le stia appunto per fare il famoso servizietto che non le ha fatte al cimitero poi però se ne va no veramente io quando vedo queste cose ma io impazzisco ragazzi ma abbiate pietà abbiate pietà di me io lo so che poi dovrei vedere questi film per quello che sono dei film trash ma il problema sono sempre lo stesso questi film li vedono le ragazzine Netflix tu non puoi continuare a investire su queste minchiate per forza adesso stanno perdendo migliaia di abbonati hanno avuto il crollo in borsa altro che la guerra comunque sia scherzi a parte ho già fatto questo discorso su Instagram comincia appunto questa questa trafile in cui lui poi va dove lei lavora dove c'è appunto anche il fidale lo Yoshi che è il protagonista morale di questa storia alla fine perché lei muore dietro ma lei sti cazzi lei vuole quello lì che poi il suo attore che interpreta Ares adesso io voglio sapere ma stava male cioè per me fare questo film per quell'attore è stata una sofferenza perché c'ha sempre un'espressione di dolore mentre recita anche quando deve fare il simpatico che secondo me veramente ha sofferto interiormente ma mi viene la verità ragazzi quando facevo una certa espressione io pensavo che il protagonista fosse malato se muore io pensavo infatti se muore io faccio 92 minuti di applausi purtroppo però non è successo e non possono darci questa soddisfazione comunque sia lui va lì la invita all'inaugurazione del locale del fratello lei appunto ci va con la scopatrice di professoresse che non mi ricordo veramente ragazzi come si chiama e poi appunto c'è il fratellino Apollo che vuole entrare in questo privé in cui però non lo possono fare entrare perché giustamente è minorenne c'è questo piccolo dettaglio infatti quando appunto Raquel vede Ares entrarci vuole entrarci anche lei ma c'è questa maschera che è proprio una maschera perché è un uomo proprio dipinto truccato ma quello va bene è un nightclub quindi ci stanno rompi i coglioni per questa cosa arriva Artemis che appunto riconosce Raquel lo fa entrare dice però all'amico non fare entrare il mio fratello piccolo infatti in questo privé si vede gente che si accoppia liberamente insomma non è un cazzo di privé ma è un harem probabilmente lei appunto segue Ares nel retro e qui c'è un'altra scena in cui praticamente si saltano adosso l'unica cosa di cui hanno voglia questi ragazzi è di farsi una sonora trombata come si deve lei alla fine vuole fare solo questo lei non vuole che lui si innamori di lei vuole semplicemente farsi aprire in due come una mela come direbbe Ragionier Fantozzi perché io qua sinceramente di sentimento ancora non ne vedo io vedo solo due ragazzi che vogliono scopà semplicemente questo io vedo poi però lei appunto lo lascia in sospeso come aveva fatto lui nella sua stanza torna nel locale fa bere il fratellino più piccolo che giustamente poi sta male e lei e l'amica la trombatrice di professoresse lo riportano cercano di portarlo a casa ma lui si spaventa no 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 vi prego non potete portarmi a casa in queste condizioni allora lei giustamente comunque gentilmente visto che un ragazzino lo porta a casa sua lui entra arriva di nuovo Ares che le entra dalla finestra e controlla che il fratello comunque stia male ha detto che lei è a stronza che l'ha fatto bene infatti dice l'hai fatto bene tu e lei non gli risponde neanche ha detto ma cazzo stronza prenditi le tue responsabilità si guarda ma non pensavo che gli avrebbe fatto così male lui ci teneva tanto certo se fossi stata poi in Ares appemmo una bella cinquina ma fai bene mio fratello minorane ma sei scema comunque anche qui c'è un'altra delle scene più epiche di questo fantasmagorico film possiamo dire qui appunto vediamo come Ares comunque sia legato al fratello questo non dico di no infatti se ne prende cura si vede che come è che si dice oddio c'ho un lapsus vabbè comunque ecco la predisposizione a fare il medico e poi giustamente poi dice guarda non possiamo tornare a casa perché se mio padre diciamo che è tradotto se mio padre ci becchi in questo stato ci massacra giustamente di botte quindi non possiamo rientrare finché lui non esce e che cosa fa si mette sul letto di questa ragazza si toglie la camicia e si sdraia accanto al fratello e poi le dice tu cosa fai non ti metti a dormire e quindi abbiamo Ares Rachel e Apollo di fianco con Ares che ha allungato il braccio per prendere la mano al fratello e intanto con l'altra mano che cosa fa fa un bel ditalino a Rachel che ansima tutta vogliosa con il fratellino lì vicino ma ma che cazzo di problemi hanno queste persone alla fine ve l'ho detto sono solo due ragazzi che vogliono trombare non sono altro questi infatti poi siccome il fratellino in un gesto di diciamo di alcolico di ubriachezza ha preso il telefono di Rachel e l'ha buttato giù dalla macchina in corsa che cosa fa Ares giustamente devo anche dire le procura un telefono nuovo però lei giustamente non lo vuole accettare quindi va a casa di Hidalgo dicendo che vuole vedere Ares perché deve restituire una cosa e mentre appunto lei sta entrando nella sua stanza si vede Ares che parla chiaramente con una delle sue svinfere e quando appunto lei entra in casa e gli dice non voglio il tuo cellulare non voglio che me lo restituisci papim papera c'è questo dialogo appunto anche subito in cui lui praticamente le dice che cosa vuoi da me cosa vuoi fare papim papera lei fa verandarsi e poi cambia idea e gli salta addosso e i due finalmente trombano per la prima volta però però qui c'è l'inghippo perché dopo che lui se l'è aperta in due come un melone devo dire che qua per quanto riguarda queste scene gli spagnoli sono molto più bravi di quelli che stanno facendo After perché le scene devo ammetterlo di quel tipo sono fatte bene sono sensuali sono scene proprio di zoom zoom quelle che avremmo voluto vedere in After per dire invece in After quei due poveri ragazzi sono solo in imbarazzo questi due si sa che comunque gli spagnoli questi qua i barsellonesi sono un po' più spigliati per fare questo genere di scene un po' così forse tutto il resto quindi vabbè comunque di quello non ci lamentiamo abbiamo visto le belle chiappe di Ares in bella vista devo dire che non è comunque una vista neanche tanto male per quanto questi attori sono delle patate travestite ad esseri umani io ve lo dico a livello recitativo ve l'ho detto quello lì che fare sembra sempre che stia male che stia soffrendo dentro una sofferenza immane mentre recita con Yoshi che comunque era andato lì a casa di Raquel per studiare che l'aspetta l'aspetta per ore mentre si sta facendo aprire i due da questo qui e quando appunto hanno finito di trombare lei va lì per averne ancora perché ne vuole ancora lui invece si alza si rimette i pantaloni si siede sulla poltrona e si mette a rigiocare alla Playstation come stava facendo prima che lei arrivasse ma questo è un coglione ma andate veramente a fare cioè chiaramente figlia bella ti ha dimostrato che è un pezzo di merda e tu che ci sei cascata perché tutti gli avvertimenti che hai avuto prima non sono serviti Raquel diciamo che qui è un personaggio con cui non è facile empatizzare cioè da una parte sì perché anche questa chiaramente è prigioniera di una favola tutta nella sua testa dall'altra però cazzo se la cerca anche perché chiaramente questo in tutti i modi l'ha fatto capire che è uno stronzo comunque scappa a vie lacrime e tutto il resto poi non si sentono per un po' di tempo lei poi ha perso anche il ciondolo un ciondolo molto importante per lei lui che cosa fa perfetto stalker pubblica una foto sui social in cui lo mostra cioè prima te la trombi e poi le fai le fai chiaramente capire che non ti importa poi però la attiri la attiri con la foto per farla venire a casa tua per restituirle il ciondolo perché chiaramente te la vuoi trombare ancora e allora io qui faccio entrare in ballo l'esperto allora sei deficiente dillo sono deficiente lo so sì chiaramente è come Ardyn praticamente esattamente come Ardyn qui il comportamento infatti lei va c'è questa festa in piscina in cui si vedono queste ragazze che fanno un po' le sceme con i fratelli papi in papera lei poi gli dice io rivolgo il mio ciondolo lui la porta di sopra glielo restituisce lì altra trombata altra apertura in due come se la lezione non le fosse bastata lei ci sta ancora infatti loro possono lì a letto il padre si domanda dove sia perché non è a colazione perché il padre è uno stronzo il padre dei ragazzi vi dico già anche questo un pezzo di merda che ha educato i suoi figli a non credere nell'amore perché la moglie l'ha cornificato e lui stesso cornifica infatti siccome loro sono dei cornificatori feroci allora l'amore è una merda bravi è così che vengono fuori poi i ragazzi così disagiati io lo dico sempre la colpa è anche dei genitori poi appunto c'è il fratello grande Artemis scusate sto perdendo la voce che dice al fratello che ti sto aiutando a scappare prima che il nostro padre scopra che ti sei portato una ragazza a casa e che ti sta innamorando ma cosa pensano che siano come la regina di ghiaccioli di quel film merdoso con Chris Hemsworth il padre pensa di essere quello vai a fare in culo comunque se l'hanno preso da lì mi incazzo comunque appunto lei si sveglia da sola con l'inserviente penso che sia l'inserviente una delle dipendenti insomma della famiglia Hidalgo che oltretutto Artemis si tromba di nascosto che le dice guarda che Arese è andato via e quando torna tardi te l'ha detto lui di dirveli in pratica lei capisce mi sono presa un'altra inculata quante cazzo le devi prendere per capire che chiaramente devi stare lontana da questo ragazzo Raquel quante volte devi sbatterci la tessa la tessa la tessa vedete mi è venuta in mente quella perché mi viene indimediabilmente in mente testa perché anche lei quattro film ancora non ci ha sbattuto la testa anzi adesso uscirà anche l'ultimo film voglio proprio vedere guardate come gestiranno il resto della storia ho già i brividi guardate ho i peliritti guardate al pensiero comunque sia poi appunto lei Yoshi Raquel Yoshi è la trombatrice di di professoresse che qua invece sembra poi prendersi una cotta per Apollo vanno a questa festa in quel punto cioè lei vede chiaramente questo che sta facendo il cretino con un altro eppure continua a stagli sotto vedete perché poi io mi incazzo perché queste ragazze queste ragazze proprio se le cercano la sofferenza che chiaramente ti ha trombato due volte ti ha lasciato con la bocca asciutta due volte lo vedi lì che chiaramente vuole inchianarsi un'altra chiaramente sta cercando di allontanarti perché è uno stronzo ma allora scappa ma che cazzo quanto piombo deve esploderti vicino alle orecchie per farti capire che è chiaramente uno stronzo c'è lì un ragazzo che è carino poi c'è questa scena appunto in cui lui lei e Yoshi ballano e sono anche simpatici ma lei continua a guardare a guardare quello lì che chiaramente si sta infricchettando un'altra bevono come delle spugne vanno in questa piscina in cui appunto Yoshi alla fine diciamo che fa una mezza dichiarazione a Raquel che è ubriaca persa fanno un casino nella piscina tornano a casa e lei che cosa fa da ubriaca persa tira l'attenzione di Ares che era appunto da solo in camera quindi stranamente non si è inchianato l'altra oppure si era già inchianata e se ne è andato la trova lì in mezza la sana giustamente cosa fa la porta in casa perché non è che può lasciarla lì ubriaca almeno questo per fortuna lo prende la porta a casa e le racconta appunto la storia e qui cercano di farci empatizzare con il suo comportamento perché comunque lui pensava di vivere in una famiglia perfetta ma poi ha scoperto la madre che si faceva trombare da un altro quindi giustamente è andato dal padre perché cosa fa un bambino quando trova la madre che tromba un altro va dal papà giustamente guarda papà ho visto questa cosa e quindi il papà ha fatto un casino con la moglie il matrimonio si è sfaldato la famiglia che pensava la perfetta si è distrutta poi però alla fine per salvare le apparenze si sono rimaste insieme ma il nostro padre ci ha insegnato che l'amore è merda che è debolezza e che quindi non ci dobbiamo innamorare se vogliamo avere successo nella vita ma io al padre gli rispondo così vedete anche per colpa di questi genitori che i figli poi vengono su così ma chiaramente chiaramente questo io non voglio giustificare il comportamento di questo ragazzo qua però dico anche che se è un po' così la colpa è anche del padre e fino a che non ho incontrato Nakella cosa lui andava bene di trombarsi qualunque cosa si muovesse senza innamorarsi però questo qui senza che mai abbiano avuto un dialogo vero e proprio che puoi dire almeno si sono conosciuti hanno parlato no abbiamo visto solo momenti in cui volevano trombare o trombavano quindi già solo per questo lui si è innamorato o forse perché ha letto la sottra non lo so sinceramente non lo so come questi ragazzi abbiano fatto a innamorarsi e qui veramente anche qua chiamo after in in cosa in causa assolutamente e quindi poi di conseguenza lui decide di stare lontano infatti anche il padre glielo dice perché il fratello Artemis quello grande è succube del padre quindi lo informano di tutto quello che succede infatti scoprono che lui sta rendendo meno a scuola perché comunque il padre l'ha già deciso lui studierebbe quello via a Stanford non gliene fotte un cazzo di quello che vuole fare il figlio deve prendere il suo posto termine a settore delegati dell'Alpha 3 e tutto il resto quindi trombati chi vuoi ma scordati quella ragazza invece Alice che cosa fa va da Raquel e le chiede scusa e tutto come sempre questi pezzi di merda lo fanno sempre e lei ci casca quando gli dice ricominciamo da capo usciamo insieme farò le cose per bene e lei ci casca e qui devo ammettere che Yoshi mi è piaciuto perché sei incazzato e ha detto ma scusami questo qui te ne ha fatte passare di ogni e tu ancora gli sei dietro ma mi piace io piaccio a lui quindi perché non dovremmo uscire insieme ma sei scema dillo che sei deficiente dillo che vuoi soffrire e difatti Yoshi la manda un po' a fare in culo gli dice quando però ti scaricherà come le altre non venire a piangere da me perché io forse non ci sarò per la prima volta in tutta la nostra amicizia e appunto vediamo lui che la invita a una festa in maschera che poi alla fine non è così ma la porta sul tetto dell'Alpha 3 piena zeppa di telecamere dappertutto di sorveglianza e finalmente le fa il primo con i lingus perché lui non voleva fare con i lingus non faceva con i lingus a nessuno perché era una cosa intima una cosa molto personale quindi visto che lei probabilmente quella giusta lo raciaffete con la testa in mezzo alle gambe qui vediamo poi una scena di carellate in cui lui non fa altro che andare in o c'ha la testa tra le sue gambe o c'è qualcos'altro in mezzo alle sue gambe cioè dio santo una carellata di scena in cui non vediamo altro loro due che trombano cioè io veramente era neanche cioè 365 giorni mi era bastato da questo punto di vista non si vede altro che quello non è che li vediamo parlare scherzare confrontare no vediamo solamente loro che trombano non fanno nient'altro poi alla fine si passa a quella che dovrebbe essere l'evoluzione della storia ovvero lui che la porta a questa festa organizzata nell'azienda di famiglia in cui lei appunto scopre che la madre fa la cameriera oltretutto lui una scena prima aveva deciso di andare contro il padre no io non vado a Stanford voglio studiare medicina mi pagherò io gli studi e si fa assumere dallo stesso barettino dalla stessa datore di lavoro di Raquel e poi appunto lui la porta a questa festa in cui lei scopre che la madre fa la cameriera quindi non so perché non so per come le va in crisi mistica prende e scappa i lacrime convinto che loro la volessero umiliare e qui diciamo che Artemis fa anche un discorso abbastanza un po' freddo ma anche diciamo sensato tu l'hai portata qui per farla soffrire l'hai portata qui per sbandierarla per sbandierare il tuo trofeo magari involontariamente però l'hai fatto quindi se vuoi farle e qui Artemis ovviamente qui gli ho fatto l'applauso se vuoi se non vuoi farla soffrire lasciala stare non coinvolgerla in questa famiglia in queste cose tu non puoi rinnegare chi sei puoi metterti la divisa e friggere le patatine ma in realtà tu sei quello che sei poi qui si potrebbe aprire un dibattito ma lascio per dire che non ce ne frega un cazzo lei poi se ne va incazzatissima gli chiede ma tu mi ami e lui non le risponde come cazzo fa ad amarti se non vi conoscete allora non ce l'hanno fatto vedere che vi siete conosciuti io vi sono soltanto voi che trombate voi che vi conoscete francamente non l'ho visto quindi non posso neanche diciamo andare totalmente contro Ares ma vi conoscete vi conoscete oppure pensate di essere innamorati se non perché trombate alla grande ma seriamente ma è così vabbè comunque ok su un punto di vista allora appunto non si parlano per un po' e tutto il resto poi comunque c'è diciamo arriviamo poi al finale della storia in cui appunto c'è il famoso ballo anche quello hanno dovuto un po' mettere l'americanata al ballo di fine anno in cui lei doveva andarci con Ares lei va appunto a casa di Ares perché ha un discorso della madre che riguarda appunto il libro del padre che non aveva mai pubblicato perché non si sentiva all'altezza infatti lei c'ha il complesso che non si sente all'altezza perché lui è ricco da fare schifo mentre lei invece è povera come la merda la madre la convince che se invece lo ama veramente amare poi qui non stiamo parlando quello non è amore signora signora anche lei porca di quella puttana ma cosa fa dicevo appunto gli dice devi dotare per lui allora lei va gli dice gli urla mi dispiace per quello che è successo e che lo aspetta al ballo lui poi alla fine si decide infatti c'è questa scena di run boy run cioè una roba con la camicia aperta cioè manco mister darsi ma va smettetela va smettetela con lei appunto che è lì che lo aspetta il ballo e tutto la trombatrice che arriva con Apollo anche a un certo punto quindi io deduco che uno dei prossimi film sarà con loro due a meno che lui non si renda conto che forse o la ragazza si renda conto che trombarsi un minoreno non è proprio la cosa più sana e appunto Coso Ares arriva al ballo però c'è Yoshi a fermarlo lui lo trascina in piscina e gli dice che io a me non importa respirare basta che respiri lei vabbè lascia il loro però me lascia il latte alle ginocchia non c'è bisogno di tutta questa glicemia ragazzi miei ve lo dico una che è romantica ma questo non è romantismo questo è solo mamma mia che glicemia lui appunto c'è un piccolo altergo tra Yoshi e Ares in cui lui cade cade in piscina che però è vuota e in quel momento si riempie d'acqua e ci frisce dentro anche il cloro e non ve l'ho detto Ares è allergico al cloro infatti l'acqua della loro piscina è salata Yoshi va da Raquel che si abbracciano lei gli chiede scusa lui lei informa guarda che ho avuto un piccolo diverbio con Ares ed è caduto in piscina però sta bene invece Ares è nell'acqua piena di cloro e sta malissimo invece sta proprio una merda Raquel con vero sprezzo del pericolo che manco Pamela Anderson in Baywatch si butta e lo salva grazie all'aiuto di Yoshi e qui abbiamo poi il momento dramma di lui in ospedale in coma perché il cloro gli ha provocato lo shock all'anafilattico lei che veglia su di lui come una perfetta infermierina bla 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 poi lui alla fine lei che comunque continua a scrivere la loro storia bla 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 poi che si sveglia tutte cose e scopriamo poi c'è il gran finale scopriamo che l'incidente il fatto di aver quasi perso un figlio ha cambiato le priorità quindi adesso il padre andate innamoratevi di chi cazzo volete anch'io ho scoperto che l'amore in realtà è forza ma vattene a fanculo te e gli mortacci tua sorella ed è Ashley infatti ha resti il permesso di andare a in Amsterdam se non sbaglio a Stoccoma non mi ricordo a studiare medicina quindi si salutano giustamente si saluta lui deve andare a studiare all'estero ragazza mia la distanza non è mai la soluzione vedesi come è finito Kissing Boat quindi appunto di conseguenza si vede loro che si salutano all'aeroporto lei che gli ha lasciato come regalo le sue mutandine passano quattro mesi poi questa ha già pubblicato il suo libro cioè perdonatemi questo è uno schiaffo a tutte le autrici che conosco che si fanno un culo grosso così per arrivare in libreria perdonatemi perdonatemi sul serio questo l'ho trovato un vero schiaffo a tutte le autrici self comunque passano quattro mesi lei arriva a casa e se lo ritrova sempre in camera come un perfetto stalker un'altra volta e cos'è la prima cosa che fanno quando si vedono trombano e si conclude con loro che trombano no vabbè ma io ma io qui lo faccio vedere solo perché è necessario per favore no veramente quale concezione mentale ha portato Netflix a produrre questo schifo e quale concezione mentale ha portato gli spagnoli barcellonesi a produrre questa merda io poi ve lo dico non so com'è il libro la mia amica Federica mi ha detto che è bello io mi voglio fidare di lei perché è una persona di buon gusto quindi non lo so sinceramente non oso neanche e poi il pensiero che faranno altri due film perché Arianna me l'ha già detto a quanto pare hanno già approvato i film sugli altri due fratelli no io non ce la posso pare se penso che devo vedermi altre due cagate così io spero che magari gli altri due fratelli siano un po' più Apollo però me era simpatico Artemis un po' una testa di minchia non lo so sinceramente guardate se dico non lo so eh non lo so ragazzi ho veramente paura spero ovviamente che magari Netflix ci ripensi visto il calo di iscritti che hanno avuto quindi ragazzi ma che altro dirvi cioè è una palese copia di After in chiave ispanica cioè chiaramente questo questa nottrice probabilmente ha voluto ricalcare sull'onda di After come ormai fanno anche tante altre diciamo ce l'ha pure tutta e questo film diciamo l'ennesima commercialata che avrebbe attirato appunto le fan di After e anche le povere disgraziate come me che per colpa degli utenti che vogliono vedermi sclerare sono stata costretta a vederlo e ho costretto anche Gaia perché da solo non ce l'avrei fatta quindi ragazzi io che altro dirvi se volete farvi del male guardatelo pure se vi è piaciuto After è il film perfetto per voi ma io sinceramente non lo rivedrei una seconda volta mi è bastata e c'ho già paura per gli altri due porca di quella puttana io poi come ho detto ho paura proprio degli esempi questa storia è partita con lo stalkeraggio e si è concluso con una trombata è una cagata pazzesca ditemi voi cos'altro vi serve per capire che sto film fa leggerissimamente schifo non lo so fatemelo sapere nei commenti in maniera educata però eh perché sennò vi cancello eh non mi faccio più fregare ragazzi sono stufa sono un video per far ridere questi se vi è piaciuto state la larga se invece volete farvi due risate vi aspetto nei commenti e ridiamo insieme che in questo momento di ridere ragazzi abbiamo molto più bisogno che di incazzarci e rompere le palle per un cazzo di film alla fine bene anche questa recensione diciamo a tema film si conclude qui io spero vivamente che vi sia piaciuta vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e soprattutto seguirmi su instagram link in descrizione in descrizione troverete anche i link di tiktok e waywayful se volete sostenermi poi con una donazione trovate il tasto grazie sotto i video ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella attivare le notifiche così non vi perderete nessun nuovo video vi ricordo che in descrizione trovate anche i link delle pagine facebook dedicate a The Walking Dead Carell Italia e The Walking Dead Itafamily due tra le pagine italiane dedicate a questa serie più informate e appassionate su Carell Italia in questo momento io e Carol siamo in pausa perché è finita la seconda parte della undicesima stagione stiamo aspettando la terza comunque faremo le pagelle adesso non so quando però se seguite la pagina cliccate per attivare le notifiche non vi perdete nessun post anche perché potete trovare tantissima roba inerente alla serie e poi passate anche su The Walking Dead Itafamily anche lì potete trovare davvero di tutto tra le curiosità degli attori sul set immagini di meme divertenti aree di discussione chi più ne ha più ne mette insomma ragazzi siamo a The Walking Dead seguite queste due splendide pagine facebook se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e fatemi sapere rispettosamente nei commenti cosa ne pensate se a voi è piaciuto ditemi educatamente perché vi è piaciuto fatemelo confrontiamoci nei commenti io ascolto tutti come vi dico io non ho niente contro le persone a cui piace vi piace? vi voglio bene sono contenta per voi buon per voi l'importante ragazzi è che separiate come sempre la realtà dall'immaginazione non vogliate delle storie così finché vi piacciono come film come cose va bene a me non piacciono neanche in quel senso e quindi lo dico quindi civilmente nei commenti confrontiamoci ragazzi e vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti comunque voglio vedere i genitori come reagiranno quando scoprono che il figlio si si che il figlio minore viene trombato da una che praticamente è molto è un po' più è un po' più grande di lui non vedo l'ora di vedere la reazione del padre guardate ciao ciao